Buongiorno a tutti ragazzi sono Gilby e sono qui oggi tornato a farvi vedere quella che è la mia analisi della trimestrale di Microsoft visto che è uno dei titoli che occupa più percentuale nel mio portafoglio vi voglio dire la mia su quello che è il futuro che secondo me avrà appunto Microsoft vi farò vedere anche quello che è il mio price target a 5 anni e se, come vi ricordo sempre, c'è un margine di sicurezza del 20% nell'acquistare le azioni oggi come saprete Microsoft ha fatto una trimestrale spaventosamente devastante infatti partiamo da due dati importantissimi il primo sono le earnings per share che sono state di 2,03$ mentre quelli che si aspettavano le listi erano di 1,64$ quindi un rialzo altissimo rispetto alle aspettative un altro rialzo molto molto interessante è stato quello delle revenue che sono state di 43 miliardi di dollari mentre gli analisti si aspettavano 40 miliardi, cioè 3 miliardi di differenza è tantissimo ragazzi, è veramente veramente tanto è praticamente il 7-8% in più di quello che si aspettavano gli analisti su un trimestre è molto molto alto e altro dato importante, i ricavi sono metti del 17% se contati sul trimestre dell'anno scorso e del 12% rispetto all'ultimo trimestre quindi anche qua spaventosamente alto e per quanto riguarda la guidance per il prossimo trimestre si aspettano di avere ricavi del trimestre tra i 40 e 41 miliardi che sono comunque tantissima roba ragazzi miei ma la cosa che mi ha fatto spavento sono i ricavi che ha avuto da Hazur che è la piattaforma cloud che permette appunto alle persone di depositare i file in cloud e questo servizio ha aumentato i ricavi del 50% mentre gli analisti si aspettavano che sia il 42% è spaventosamente alto l'altro segmento delle vendite di Microsoft che ha reso tantissimo infatti ha avuto un rialzo del 14% rispetto alle previsioni di analisti è stato il segmento derivante dal personal computing che ha avuto ricavi per 15 miliardi ragazzi miei a fronte di 13 miliardi che si aspettavano i analisti è spaventoso ragazzi miei l'altro settore come potete vedere qua qua vedete le percentuali di aumento delle revenue e vedete come le revenue derivanti da Xbox essendo che è uscita la nuova console di Microsoft hanno avuto un incremento del 40% che ragazzi miei è una roba spaventosa infatti come vi dicevo Microsoft ha rilasciato l'Xbox serie X e la serie S che avevano prezzi relativi di 500 dollari e 300 dollari e questi hanno avuto ottimi ottimi risultati e questo è spaventosamente bello per noi azionisti come potete vedere qua avete un riepilogo di quello che sta l'andamento delle revenue in base ai segmenti come vedete sono tutti in crescita quindi tantissima roba anche per dire un settore che era quello delle ads che ha avuto un calo rispetto agli anni prima ha avuto ancora un incremento quindi va benissimo e come vi dicevo appunto i due settori che hanno sovraperformato tanto sono le revenue derivanti da Xbox e dal cloud che è un servizio in netta crescita guardate la crescita degli ultimi trimestri spaventosa spaventosa e oggi vi voglio far vedere quello che è il mio nuovo price target di Microsoft tra 5 anni e andremo a vedere se a questi prezzi qua c'è un marzo di sicurezza del 20% per entrare quindi vedete che io per curiosità le guardo sempre ai trimestrali anche perché Microsoft come vi dicevo occupa una grande posizione all'interno del portafoglio non mi ricordo in percentuale quale ma mi pare all'incirca intorno al 4% come vi dicevo infatti su Microsoft io ho un prezzo medio di 184 dollari che mi garantisce attualmente un profit loss del 28% e occupa il 4% del mio portafoglio quindi ho bisogno di sapere cosa esce dalle trimestrali e se effettivamente continuo a fare bene perché in quei casi lì ovviamente penserei di vendere come vi dicevo il mio nuovo price target che vedete qua è tra 5 anni di 408 dollari per Microsoft infatti questo ci garantirebbe andiamo a vedere il calcolo un aumento di vediamo quanto 408 ci permetterebbe di avere un profitto del 72% attualmente ed è per questo che secondo i miei calcoli non c'è un marzo di sicurezza del 20% infatti attualmente ovviamente non penso di vendere perché Microsoft per me è invendibile adesso cioè non ho nessun motivo per vendere però tendenzialmente probabilmente incrementerei la mia posizione solo se raggiungessere i prezzi al di sotto di 212 dollari ovviamente questi qua non erano consigli finanziari non vi consiglio di investire su Microsoft vi consiglio semplicemente di prendervela analizzarvela bene e vedere se effettivamente potrebbe convenire a voi venderla attualmente tra l'altro rilascia un dividendo dello 0,95% che è anche alto ma lo incrementa tantissimo infatti come potete vedere qua vi faccio vedere l'incremento dei dividendi che è stato spaventoso per Microsoft anche perché non è tantissimi anni che rilascia i dividendi però sono incrementati tantissimo negli ultimi anni per dire nel 2015 cioè 5 anni fa rilasciava un dividendo di 1,29 dollari per azione attualmente lo rilascia di 2,24% cioè praticamente il doppio in 5 anni un aumento del 90% in 5 anni vuol dire che tendenzialmente può aumentarlo ancora tanto considerando che il PE attualmente è 35% l'utile operazione è di 6% il dividendo è di 2% quindi praticamente un 30% di payout ratio quindi molto basso che quindi potrebbe tranquillamente arrivare intorno al 60% quindi quello sarebbe un buon dividendo sostanzioso ma quello lo farà solamente quando diminuirà il tasso di crescita di Microsoft secondo me detto questo ragazzi miei io spero che questo video qua vi sia piaciuto lasciando un bel like, un commento e niente ragazzi ci vediamo al prossimo video ragazzi miei vi ricordo anche che lo scorso video è a 90 likes e se lo scorso video come vi dicevo raggiunge 100 likes domenica vi porto il video con le 3 azioni da acquistare a febbraio quindi se vi siete persi andate a vedervelo che è molto molto interessante ovviamente ragazzi lasciate anche un bel like sotto questo video qua perché è molto molto importante ragazzi miei mi raccomando